Questo è il degrado di Villa Maria. Villa Maria nel rione Grutti, annunciare inferiore nel totale degrado. E' la denuncia che arriva da diversi cittadini alla nostra rubrica ufficio reclami. L'area che insiste nella zona della chiesa di Santa Maria degli Angeli, convento di San Francesco, è, spiegano, diventata off-limits. L'imbalcatura sarà senza protezione dove i bambini... Le giostrine dei bambini sono praticamente sommerse dalla vegetazione. Arbusti secchi sono tutto intorno a scivoli ed altalene. Impossibile dunque poter portare figli e nipotini in queste serate di calura per permettergli di trascorrere qualche ora all'aria aperta divertendosi. Disagio anche per gli anziani. Vedete nelle immagini come si presenta la pista utilizzata per giocare a bocce. E' così che l'hanno trovata dopo uno stop di qualche giorno. Pare fosse stato detto loro che si sarebbe proceduto alla manutenzione. Invece al rientro nell'unico spazio in cui si ritrovano, gli anziani hanno trovato acqua ovunque. Disagio anche per accedere alla struttura con un cancello quasi sempre chiuso, l'altro nel retro e invece spesso bloccato da posteggi selvaggi di motorini. Difficoltà ridotta tuonano i cittadini per chi usufruirebbe dell'area dedicata al tennis nella tendostruttura interna al parco. Con possibilità, lamentano i cittadini, pare anche di parcheggiare all'interno dell'area. Mentre tuonano tutti gli altri avrebbero anche difficoltà appunto ad accedere. E proprio intorno alla tendostruttura vi sarebbe un altro pelicolo, con travi in ferro in bella vista, accessibile a tutti, anche ai bambini. E farsi male a limite, senza protezioni.